Eccoci ancora in diretta e adesso ci rivolgiamo all'Europa, presentiamo subito l'hospite, l'onorevole Matteo Adinolfi, europarlamentare della Lega che salutiamo. Buonasera onorevole e grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera. Allora, continua a tenere banco purtroppo lo scandalo denominato Qatargate, la famosa tangentopoli europea. L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kalili resta in carcere con tanti nuovi dettagli, sta spiegando bene bene lo specifico a chi dava le buste, come le sverciava, qui ce n'erano 60.000, qui 70.000 eccetera eccetera. E poi Antonio Panseri ha aggiunto anche che avrebbe ricevuto 250.000 euro dal Sudafrica che ha sede di una grande finanziaria della ONG che è guidata da lui. Eccetera eccetera eccetera. Insomma, non ci voleva onorevole Adinolfi, però insomma da una cosa così sta diventando un pallone sempre più gonfio, eh? Purtroppo sì. Speriamo che non escano altri di eurodeputati coinvolti o assistenti, anche se il giro si sta allargando veramente tanto, quindi più chiaramente escono fuori persone e più la credibilità della dell'Unione europea, del Parlamento europeo viene meno, insomma. Ma l'unica cosa che ci può consolare è che non sono solo italiani, no? Fortunatamente non sono solo italiani perché altrimenti avrebbero già... Già ci avrebbero buttato fuori. E certo, già. No, ma già addirittura dicevano l'Italian Job, cioè il sistema italiano, il sistema italiano. E invece tutti insieme appassionatamente, no? Il belga e quel... Insomma ce ne stanno tanti di stati che coinvolti, no? Ebbè, come dire, il denaro è trasversale, non guarda colore, non guarda bandiere, non guarda niente. Quando si sente profumo di soldi e parte la corruzione, arrivederci. Pecuniano onore. È bravo, bravo onorevole. Quindi non stiamo facendo una bella figura, purtroppo. Ma io vorrei chiederle, a proposito di questo famoso gas che veramente Putin ci sta veramente esaurendo, se ne è uscito due giorni fa, io lo chiamo il signor Putin perché non mi va neanche di chiamarlo presidente uno così, lo zar, non mi va perché è troppo una mentalità bacata, uno malato, uno che si comporta così, non è in sé. Voglio giustificarlo dicendo che non è in sé. Chi aderirà al price cap ha chiuso con il gas russo? Questa è l'ennesima minaccia, chiaramente, che non può essere assolutamente neanche presa in considerazione, però l'ha fatta. Quindi continuiamo nelle sue minacce, che chiaramente danneggiano tutti. E certo. Soprattutto noi, onorevole Adinolfi, che rispetto agli altri paesi europei siamo quelli più puliti, nel senso che se a noi ci chiudono il gas ci chiudono veramente, invece agli altri lo chiudono ufficialmente, ma ufficiosamente la Germania glielo danno con altro nome, ma è sempre la Russia che glielo sta dando, giusto? Purtroppo sì, purtroppo sta emergendo questo. Quindi la Germania, che dovrebbe essere la locomotiva europea, che dovrebbe tutelare gli interessi di tutti gli stati aderenti all'Unione Europea, anche in questo caso, si sta dimostrando per quello che è sempre stata, insomma. Quindi fa la locomotiva degli affaretti suoi la Germania, no? Ma purtroppo sì, ma anche con gli aiuti che hanno stanziato, i famosi 200 miliardi che hanno messo a disposizione delle imprese, questo è il risultato dell'accumulo che hanno fatto in precedenza. Quindi essendo uno Stato che ha dei bilanci molto più soliti dei nostri, ha potuto fare uno scostamento di 200 miliardi rispetto ai nostri 20 miliardi, purtroppo. E quindi per l'ennesima volta la Germania mostra tutto il suo lato negativo. Tutto il suo lato negativo. Allora, a questo punto vorrei fare un passo indietro e ascoltare le dichiarazioni del Presidente Meloni sullo scandalo del Qatargate, che è stata insomma anche abbastanza risentita, come giusto che sia. Sentiamo. L'impressione è che su questa questione si debba andare fino in fondo, che si debba andare fino in fondo senza fare sconti, perché purtroppo quello che questa vicenda rischia di tradire è una, diciamo il rischio che alcune istituzioni siano troppo permeabili agli interessi. E questo è un problema che riguarda oggi gli Stati, ma che a maggior ragione potrebbe riguardare grandi concentrazioni economiche. Io non penso che istituzioni di ogni ordine e grado debbano dimostrare o accettare una vulnerabilità in questo senso. E quindi penso che fondamentale sarà la risposta che le istituzioni, ovviamente europee, e che ciascuno di noi saprà dare da questo punto di vista. Mi è capitato in passato, guardi, di denunciare la differenza che esiste tra i legittimi accordi che si fanno con nazioni di tutto il mondo, per carità commerciali, piuttosto che il tentativo di favorire o di consentire il soft power, il condizionamento che alcuni facevano, che alcune nazioni facevano in Italia e in Europa. E purtroppo quello che accade ne è una dimostrazione. Però anche qui una cosa la voglio dire, perché c'è una cosa che mi ha molto innervosito di questa vicenda. Quello che mi innervosisce di questa vicenda è che molti colleghi internazionali, alcuni colleghi internazionali definiscano questi fatti con l'allocuzione Italian Job. Il lavoro italiano, una cosa che in qualche maniera è come se fosse una macchia sulla nostra nazione. Ora la vicenda non riguarda solamente italiani, punto primo, come voi sapete riguarda anche Belgi, Greci, se non vado errata, esponenti di altre nazioni. Non è un tema solo italiano. Semmai è il tema di un partito, questo sì. Un socialist job? Non lo so. Sicuramente se fosse una vicenda che riguardava i conservatori sarebbe diventato un conservative job, probabilmente. Quindi è un tema che riguarda sicuramente una famiglia politica, ma non riguarda l'Italia come se l'Italia fosse il grande corruttore d'Europa. Per cui su questo lo dico per difendere la dignità, l'onore e l'orgoglio della nazione che rappresento di fronte ad attacchi che mi sembrano strumentali. Perché le responsabilità sono abbastanza trasversali tra le nazioni, non tra i partiti, ma tra le nazioni sicuramente. E quindi credo che le cose vadano chiamate con il loro no. Ecco, ma è vero, Doregola Di Dolfi, come dice il Presidente Meloni, che all'interno del Parlamento Europeo circola questa voce tipo Italian Job, cioè il nostro modo di lavorare? Da subito, da subito è iniziata a circolare questa chiaramente offesa per l'Italia, ma tra l'altro la Vice Presidente del Parlamento ha detto bene che il Presidente Meloni è greca, oppure l'altro eurodeputato è belga, quindi sono due persone di stati diversi dall'Italia. Quindi innanzitutto va rigettata al mittente questa offesa all'Italia tutta, non c'è assolutamente il sistema Italia, anzi personalmente partecipando in Commissione Controllo di Bilancio tutte le truffe peggiori e maggiori vengono da altri stati, quindi ne vedo di tutti i colori, le fanno in generale. Tipo quali sono i più corrotti? Facciamo una gradatoria del peggiore. Allora, innanzitutto bisogna dire che in Olanda forse l'antiriciclaggio neanche lo conoscono e quindi là è diventata una concentrazione di legalità spaventosa. C'è addirittura infiltrazione mafiose vere all'interno dello Stato, quindi l'Olanda è diventato il paese più a rischio dell'Unione Europea, ma anche in Germania ci sono truffe e poi nei paesi ex dell'Est chiaramente già ne eravamo a conoscenza, ma assolutamente non è il sistema Italia quello peggiore che c'è, anzi tutt'altro le nostre autorità giudiziarie, gli organi di vigilanza italiani dovrebbero fare molte lezioni agli organi esteri. Noi siamo proprio al top per quanto riguarda la normativa sull'antiriciclaggio, sulla lotta alla mafia, anzi molto spesso i nostri investigatori vengono chiamati in Unione Europea proprio a dare lezioni su questo, probabilmente perché in Italia, questo è successo tanti anni fa, noi abbiamo avuto magistrati molto importanti, tra cui Falcone che diceva bisogna seguire il denaro, quindi questa lotta alla mafia in Italia già c'è da 30 anni, quindi noi dobbiamo esportare questi modelli di investigazione, perché attualmente le maggiori truffe avvengono in altri stati. Ecco ma infatti quello che mi, dopo questa sua gradatoria, quello che mi viene da dire, anche da ridere, proprio l'Olanda che invece fa tanto la maestrina quando stiamo in Europa dicendo che noi siamo il fanalino di coda, che noi siamo solo pieni di debiti, che non siamo capaci di produrre, proprio loro che fanno le truffe. Ma l'Olanda, chiaramente anche in Olanda il meccanismo del prezzo del gas che non ha funzionato è proprio olandese. Appunto. Oppure il paradiso fiscale attualmente in Europa sta in Olanda, cioè le multinazionali hanno sede in Olanda, ripeto, per una serie di normative antiscalata, il diritto societario olandese permette di controllare meglio le società, le proprietà o le scalate. Eh non è un caso che sono lì, no? Ma soprattutto dal punto di vista fiscale, perché purtroppo anche molte imprese italiane hanno la sede là, molte imprese anche controllate da ministeri, purtroppo. Sì. C'è una domanda da parte del signor Antonio Arabi. Come Putin adesso, no? Onorevole, la Melonia ha fatto, il Presidente del Consiglio ha fatto un riferimento anche ai paesi, alla parte conservatore, ai conservatori, cioè se fosse stato uno scandalo solo di parte a quest'ora. Se fosse stato uno scandalo che riguardava i sovranisti o i conservatori, quindi l'identità di democrazia, il gruppo della Lega, oppure il gruppo della Meloni, di Fravelli Italia, sicuramente la risonanza sarebbe stata molto, molto maggiore. E non mi ha fatto neanche finire la frase, ha preso subito la palla al balto, ha risposto immediatamente, ha capito subito. Chiaramente questo scandalo è tutto a sinistra, tutto a sinistra. Ripeto, nessuno del partito della Lega o di Fravelli Italia e attualmente anche di Forza Italia è coinvolto in questo scandalo. Quindi è tutto uno scandalo a sinistra. Senta, onorevole, per quanto riguarda la Cina, ci risiamo, no? Ha visto che dopo un forte lockdown hanno deciso che il Covid zero è una cosa impossibile, hanno riaperto tutto e questi ce li ritroviamo da tutte le parti. A Malpensa sono arrivati un aereo intero tutti positivi. Allora che cosa decide il nostro governo? Facciamogli fare il tampone, ma magari invece che non gli facciamo proprio entrare. Cioè non ci sarebbe bisogno di una manovra da parte dell'Europa perché qui ci rimettono in ginocchio se riparte un'altra ondata di Covid e riprende piede la pandemia come è stato due anni fa. Perché lei lo sa, gli imprenditori erano allo stremo, stanno risalendo la China piano piano, ma se riparte un'altra ammazzata di queste di Covid e qui ci sarà gente che si spara ogni cinque minuti. Quindi l'Europa che può fare per mettere un freno a un'importazione cinese di Covid? Allora, proprio il commissario alla salute in Unione Europea, proprio questa settimana ha divulgato anche una serie di consigli per tutti gli stati. Raccomandazioni. Raccomandazioni, sì. In pratica a gennaio ci sarà la liberalizzazione, cioè i cinesi possono venire con più facilità in Unione Europea e quindi il commissario ha proprio raccomandato ai vari stati di tenere alta la guardia, soprattutto di mantenere qualche disposizione che è stata eliminata perché se ci fosse un'altra ondata di Covid, non so l'Unione Europea, ma soprattutto io penso all'Italia, quanto può sostenerla. Cioè noi abbiamo avuto una serie di ondate di Covid che hanno messo veramente in ginocchio le nostre imprese, le nostre famiglie, siamo usciti dal tunnel, anche dal punto di vista sanitario, però la situazione si è aggravata con la guerra in Ucraina ed è stata il colpo finale. Quindi affrontare un altro lockdown non è neanche da immaginare. È vero che quasi tutti abbiamo tre dosi, molti iniziano a fare la quarta dose, quindi il Covid non è più letale per la maggior parte delle persone. Basta che non si sviluppano altre varianti, perché se si sviluppano altre varianti, lo sappiamo, oramai una tarantella vecchia, bugano i vaccini che abbiamo fatto e quindi ricominciamo da capo. Allora più delle raccomandazioni, l'Europa non dovrebbe dare proprio delle barriere, delle regole precise. Le raccomandazioni, mica siamo a scuola, fa il bravo. Cioè qui quando rischiamo un altro crack economico, un collasso della sanità. Lei l'ha visto che nella nostra regione Lazio, a Roma, gli ospedali, cartello, andate dal medico di base, l'ospedale è full, 48 ore per essere visitati. Ma soprattutto abbiamo assistito nuovamente alle ambulanze bloccate davanti agli ospedali, alle persone, scene che non vorremmo più rivedere. Eh no, ma già le stiamo rivedendo. Quindi non si può fare niente come Europa per prendere una presa di posizione netta da parte dei paesi europei, in tal modo che la Cina ha un vaccino molto fiacco perché non è mRNA, l'hanno fatto uno loro che non copre niente. Statevi dal paese vostro però, o no? Ma neanche, tra l'altro neanche sono stati vaccitani tutti, neanche hanno fatto tutti le tre dose in Cina. Quindi potrebbe nuovamente svilupparsi un'altra ondata che parte dalla Cina e quindi va assolutamente fermata. Quindi dovrebbe sicuramente il commissario e l'Unione Europea, la Commissione, prevedere delle restrizioni più nette nei confronti dei cittadini che vengono dalla Cina. Senta, com'è il calendario europeo? Cioè i prossimi vostri appuntamenti, quando sono? Dopo il 6 gennaio? Attualmente il Parlamento è chiuso, riapre il 7 gennaio e quindi si inizia direttamente con la settimana lavorativa al 7 gennaio e poi la terza settimana di gennaio c'è la prima plenaria a Strasburgo. Quindi saremo operativi dal 9 gennaio. 9 gennaio. Lei si farà portavoce insomma di far prendere qualche misura urgente per evitare di nuovo l'espandersi del Covid, l'interrogazione, qualcosa? Sicuramente già i colleghi che stanno nelle commissioni competenti, salute, già stanno facendo segnalazioni. Io ricordo che addirittura nel 2020, io ricordo che le segnalazioni purtroppo non furono prese in considerazione. C'è stata proprio una collega del nostro gruppo che era un medico, aveva iniziato a segnalare la pericolosità di questa nuova malattia, di questa Covid a metà gennaio e i primi provvedimenti sono stati presi solo a febbraio 2020, con il lockdown poi che è partito tardivamente, addirittura ci sono stati i primi problemi anche alle frontiere quando dovevano arrivare i dispositivi sanitari in Italia. Io penso che questo non accadrà più in Europa, tra l'altro l'organizzazione c'è stata, però in questo caso sarebbe opportuno controllare le frontiere, le frontiere sia dalla Cina ma anche dall'Africa. Eh certo, dalla Cina e dall'Africa, poi controllare anche da dove vengono queste persone, perché magari non vengono direttamente dalla Cina, fanno scala in Olanda. La famosa triangolazione, come facevano già nel 2020. Così non risulta che vengono dalla Cina. Ma come si comportano i suoi colleghi francesi, tedeschi? Cioè chi sono quelli più attivi in Europa? Perché in Europa se ne parla tanto ma sembra molto qualcosa anche dell'opinione pubblica di fumoso, no? Ma c'è battaglia lì dentro come il Parlamento europeo oppure state tutti seduti, tutto silenzio? No, no, assolutamente. Le battaglie si fanno nelle commissioni competenti, per esempio c'è il famoso discorso del New Green Deal, in pieno chiaramente stiamo trattando questi argomenti perché noi sappiamo tutti che dal 2035 i motori a scoppio debbano essere eliminati e in Unione Europea questo è un problema che si sta sollevando perché chiaramente con il Covid ma soprattutto con la crisi causata dalla guerra in Ucraina forse raggiungere quell'obiettivo sarà altamente impossibile ma soprattutto si danneggiano soprattutto le aziende europee. E certo, vorrebbe dire che tutte le automobili che ci sono buttiamo tutto, andiamo tutti all'elettricità con le bollette quadruplicate, che bell'idea. Ma scienziati proprio, fino al 2035, ma cambiamola sta cosa perché sembra insomma evidente che sia impossibile, anche laddove dovesse raggiungersi una pagina col signor Putin che mi sembra molto lontano da volerla raggiungere perché è invasato e continua e chiameremo di qua. Adesso l'ultima che ha detto chi usa il price cap, niente gas. Seconda, se continuate a mandare armi parto con la guerra nucleare. Cioè questo è arrivato proprio, la guerra nucleare. Penso che nel 2022 parlare di nucleare è proprio follia totale, ma anche la risposta a queste cose da parte degli Stati Uniti mi preoccupano molto e noi che stiamo ovviamente in mezzo come Unione Europea dovremmo intervenire pesantemente perché si parla di fine della guerra in primavera 2023, forse dovevamo affrontare meglio e intervenire meglio, cioè non lasciare per esempio spazio alla Turchia a cui noi mandiamo tanti tanti aiuti sotto forma di euro proprio come finanziamenti a fondo per la Turchia, perché noi sappiamo che fa più mediazione quasi la Turchia che l'Unione Europea e questo è follia totale. Diciamo 27 Stati, una massa critica notevole e assistiamo invece alla trattativa che fa la Cina con la Russia oppure la Turchia, quindi è follia totale. Ma lei lo vede, onorevole, uno spiraglio di pace onestamente? Guardi, la previsione in primavera a me andrebbe veramente… ero ottimista all'inizio, io pensavo che non scoppiasse proprio la guerra, quando si parlava, quando arrivavano le segnalazioni dall'intelligenza americana, tutti noi pensavamo che fossero segnalazioni un pochettino esagerate, esagerate, invece c'è stata, addirittura sta continuando, la cosa preoccupante è che da parte dell'Ucraina proprio… è vero la Russia sta esagerando, Putin sta esagerando veramente, però anche da parte dell'Ucraina con il fatto che continuiamo a mandargli armi, e continuiamo a mandargli sostegno e c'è il tavolo delle trattative… Eh sì, pure Zelesky è molto cambiato, pure il presidente Zelesky, pure lui ha preso un attimo il delirio di onnipotenza, perché se pure lui vuole raggiungere in trattativa di pace non mi sembra che siano i comunicati che fa atti a scongiurare una pace, è sempre insomma molto attivo nel sollevare questioni, nel voler provocare, capirai? Tu provochi uno come Putin, da fuoco nasce fuoco, poi adesso la Meloni l'ha invitato a febbraio a Zelesky a venire in Italia, vedremo se verrà, però pure lui, diciamocelo fra noi, onorevole Adinolfi, se dovrebbe dare una calmata pure Zelesky, eh? In questa fase sì, perché ne va non solo del popolo ucraino, ma qui c'è il problema nel mondo, cioè il fatto che il grano non arriva in Africa, c'è stato problema, migliaia di persone sono a rischio proprio, ma soprattutto l'impoverimento, è vero che ci sono state bolle speculative, che l'aumento del gas non era legato, sì è partito sì dalla guerra, ma c'è della speculazione, altissima speculazione, però noi stiamo mettendo in ginocchio l'economia dei vari stati dell'Unione Europea, ma del mondo stesso, cioè dopo il Covid questa cosa non ci voleva proprio. No, assolutamente. Bene, noi siamo in chiusura, onorevole, io la ringrazio infinitamente per questa intervista, ringraziamo l'onorevole Matteo Adinolfi, aeroparlamentare della Lega, grazie mille, le auguro un felice anno nuovo, onorevole, ci rivediamo il prossimo anno, cioè la prossima settimana. Grazie a lei, vedo che si è rimessa perfettamente, di questo ne sono felice, quindi buon anno. Io abbatto pure la febbre, grazie onorevole, alla prossima, grazie, allora ci siamo, andiamo la linea alla pubblicità, Andonio, andiamo la linea alla pubblicità e poi ce n'è ancora, tanta roba ancora fino a mezzanotte e mezza.